Allora, benvenuti. Con questa sera chiudiamo il ciclo delle storie delle fotografie, un progetto che il Maxi ha organizzato grazie al prezioso contributo di Alessandra Mauro che per contrasto ha curato i contenuti di questi incontri. Nelle scorse lezioni, grazie all'appunto contributo di docenti, di storici e di studiosi, abbiamo cercato di raccontare una parte della storia della fotografia contemporanea partendo dall'idea del progetto fotografico attraverso le esperienze di alcuni importanti autori internazionali come Luigi Ghirri e Avedon. Oggi il progetto fotografico invece sarà toccato e raccontato a partire dalla fotografia di reportage di guerra. E in particolare cercheremo di capire come la guerra sia stata immortalata, raccontata e rappresentata da una generazione di fotografi che da Robert Capa in avanti ha cercato di appunto immortalare attraverso i propri scatti dei momenti che poi sono diventati parte della nostra memoria collettiva. Questo racconto per immagini è stato affidato a Renata Ferri che ringrazio per essere qui questa sera, che è appunto foto editor di importanti testate nazionali e che appunto cura pubblicazioni e mostre sul tema con fotografi appunto internazionali. Inoltre prima di entrare nel vivo della lezione desidero ringraziare diciamo tutto il gruppo che ha collaborato a questo progetto, in particolare a Valentina Nota Berardino che ha curato insieme ad Alessandra i contenuti di questi appuntamenti e che per l'appunto invito a raggiungermi per un veloce saluto di fine ciclo. Grazie. Buonasera a tutti, grazie per essere qui. E come ha detto Irene questo ciclo di incontri è stato pensato e curato da Alessandra Mauro che è il direttore artistico ed editoriale di Contrasto. Io sono la responsabile della comunicazione di Contrasto e quindi insieme ad Alessandra diciamo un po' supervisionato, ragionato insieme appunto sui contenuti di questo percorso attraverso il progetto fotografico e siamo molto contenti del risultato, della partecipazione, dei contenuti. Quindi purtroppo Alessandra Mauro oggi non può essere qui perché è impegnata fuori Italia, però ringrazio il Maxi, ringrazio Irene a nome di Alessandra di Contrasto e anche se sono stati ringraziati poi personalmente incontro per incontro ringraziamo i relatori che hanno partecipato con grande entusiasmo e immediata adesione che sono appunto Giuliano Sergio, Giovanna Calvenzi e Renata Ferri che è qui questa sera. Grazie soprattutto a voi che ci avete seguito sempre numerosi e adesso lascio la parola a Renata per questo percorso della fotografia di guerra. Buona serata. Buonasera a tutti, innanzitutto grazie di essere qui, anche io ringrazio il Maxi ovviamente per questa opportunità, ringrazio Alessandra Mauro e Valentina Notarberardino per l'organizzazione per avermi invitato e per avermi dato molta fiducia. Quindi cercherò insieme a voi di fare un percorso un percorso che parte dal capire che cosa sono le icone, a che cosa servono, a quanto ci servono. Lusenfebvre diceva non c'è storia senza documenti e di più Ernst Jung diceva non c'è guerra senza fotografia. Partendo da questi due assoluti, noi diciamo che non c'è storia senza immagini. Per chi come me si occupa da 30 anni di fotografia, per chi come me ama la fotografia, sa che la fotografia ha una funzione fondamentale per la conoscenza del mondo e soprattutto per la memoria. Nell'Ottocento quando la fotografia è nata si pensava che avrebbe cambiato la percezione della storia, delle cose e di fatto così è stato. Però si scoprì ben presto che la fotografia era manipolabile, era fraintendibile, modificabile. Tutto il secolo scorso lo dimostra e oggi più che mai noi che siamo cittadini digitali, noi che oggi fotografiamo, manipoliamo, postiamo, tagliamo e noi che siamo vittime di questa fotografia manipolata, oggi noi lo sappiamo bene. La fotografia non dice la verità o non dice tutta la verità e quando parliamo di icone parliamo di porzioni di verità. Quindi questo tema che mi è stato affidato molto ampio, molto molto importante, molto impegnativo, io ho cercato di ridurlo facendo un editing, che poi è di fatto il mio vero lavoro, ho editato questo grande tema che poteva essere infinito, cercando, facendo una scelta, una scelta che non è assolutamente imparziale, è una scelta molto personale. Quelle che vedrete, molte le conoscete, sono delle icone storiche, altre non le conoscete, vi chiederete perché ne mancano alcune o perché ce ne sono altre, perché di fatto bisognava operare, diciamo, una grossa cesura nel mare infinito delle immagini della guerra e di tante guerre che il secolo scorso e questo continuo a vedere. Quindi io ho scelto quelle che mi sembravano giuste per cominciare con voi un percorso in cui ci sono molte domande e pochissime risposte e per arrivare da Robert Capa fino a Cortis e Sonderheger che vedremo perché arriviamo a un'elaborazione delle icone. Quindi le immagini sono strumenti per conoscere e per ricordare, ma la loro rilevanza cambia in funzione delle domande che noi gli poniamo. Le icone non sono statiche, mutano, mutano moltissimo per quanto riguarda il contesto in cui vengono utilizzate. Hanno una vita che dipende, è completamente indipendente dalla loro origine. Vengono fatte per una ragione ma poi vengono usate per altre. Alcune diventano icone solo per la forma, altre diventano icone per la loro origine, perché ci raccontano un fatto, non sono necessariamente belle, ma iconizzano un momento storico. Quindi le icone prendono la loro strada e diventano manifesti, diventano propaganda, diventano documenti, diventano capi d'accusa, diventano testimonianze. Partiamo quindi dalla madre di tutte le icone. Questa è un'icona propaganda dell'eroismo repubblicano. È il settembre del 1936. Il nome vero di questa immagine è Falling Soldier. Noi la chiamiamo il miliziano ed è comunemente conosciuta come tale. Oltre ad essere un'icona è un monumento al dubbio. Da 40 anni, dagli anni 70 circa, questa fotografia si discute, si dibatte, è vero o falsa? È vero o falsa? È vero o falsa? Moriva davvero? È una messa in scena? Era d'accordo con Bob Capa? Bob Capa era un fotografo straordinario, un uomo di grandissimo fascino, il primo grande fotogiornalista, fondatore dell'agenzia Magnum, quello a cui ancora oggi si ispira tutto il fotogiornalismo, un maestro sicuramente, un maestro su cui non c'è un dubbio sull'autenticità delle sue intenzioni. Però il miliziano rimane un mistero. E tale rimarrà perché non ci sono prove per stabilire se è vero o se è falso. Il negativo è andato perduto e i provini che circondano, diciamo, questo suo lavoro durante la guerra di Spagna sono spezzettati, non si può ricostruire una sequenza. È appena uscito un saggio di Vincent Lavoie, si chiama La Fer Capa, processo a un'icona. Per chi è molto curioso può andare a leggere questo saggio. In realtà anche questo saggio non ci svela esattamente cosa è successo. Però nel 2013 è stata ritrovata una vecchia intervista audio che potete andarvi a cercare su YouTube. Io l'ho fatto e c'è la bellissima voce di Robert Capa che racconta molto semplicemente. Ho scattato la foto in Andalusia mentre ero in trincea con 20 soldati repubblicani. Ho messo la macchina fotografica sopra la mia testa e senza guardare ho fotografato un soldato mentre si spostava sopra la trincea. Questo è tutto. Sono stato in Spagna per tre mesi. Al mio ritorno ero un fotografo famoso perché avevo messo la macchina fotografica sopra la mia testa e catturato un uomo nel momento in cui gli sparavano. È semplice, è quasi banale. Se ci fidiamo di questa testimonianza, io tendenzialmente tendo a fidarmi perché chi ama la fotografia è da sempre innamorato di Robert Capa perché era bellissimo, seducente, perché ha avuto amori straordinari, Gerda Taro, la sua compagna, Ingrid Bergman e poi molte altre. Una vita avventurosissima, una morte precoce in Indocina nel 54. Questa intervista è del 47, quindi 11 anni dopo lo scatto del miliziano. È un piccolo aneddoto, però andatevelo a sentire perché è molto bella. In realtà ci svela che è stato semplicemente questo, niente di più e niente di meno. Ma da 40 anni continuiamo a fare congetture e Richard Whelan, il suo biografo, si è speso tutta la vita affinché si svelasse l'autenticità di questa foto, ma non ci ha riuscito nemmeno lui. Quindi, partendo dal miliziano, un avvertimento. Tutte le fotografie, tutte le icone rischiano uno svuotamento di significato nel momento in cui diventano immagini simbolo, soprattutto per un eccesso di sovraesposizione. Pensate, scusate, c'è un problema di seguenza. Pensiamo, questa è l'immagine del ghetto di Varsavia. Siamo nella primavera del 43. Il credito che vedete è Jürgen Stroop. Jürgen Stroop non era un fotografo, era il gerarca nazista che aveva ordinato la pulizia del ghetto. Fece più foto, allegò delle foto al suo rapporto. Il rapporto si chiamava il ghetto di Varsavia, non esiste più. Nelle intenzioni di questa icona, questa icona doveva servire a Jürgen Stroop per fare carriera, per dimostrare ai suoi capi quanto era stato bravo. E così fece, fece carriera e dimostrò ai suoi capi che il ghetto di Varsavia non esisteva più. Questa foto venne portata al processo di Norimberga, ma la vera celebrità di questa foto avvenne anni dopo quando ci fu il processo a Eichmann. quello che voglio dire mostrando questa immagine è che questa immagine nasce è un'immagine crudele, è l'immagine del carnefice che fotografa le sue vittime, quindi è un'immagine piena di colpa. Ma la cosa su cui vorrei aprire, vorrei che tutto questo incontro fosse, diciamo, aprisse dei dubbi in voi, in me, che fosse veramente degli spunti di riflessione. Questa foto nasce per uno scopo bieco di un carnefice che fotografa le sue vittime e diventa invece l'icona della Shoah. Addirittura anni fa era stato proposto anche in Italia di appenderla in tutte le scuole elementari come manifesto contro la discriminazione. Quindi, come vedete, le immagini simbolo nascono con un significato e prendono altre strade. Il contesto, quindi, in cui viene usata determina un'icona. L'immagine successiva è un'immagine di Eugene Smith. Eugene Smith è stato un grandissimo fotografo, ha fatto dei lavori straordinari, ha lavorato anche moltissimo, ha fatto tanti lavori molto epici che sono rimasti delle pietre miliardi nella storia della fotografia, il lavoro su Pittsburgh, il villaggio spagnolo, il Vietnam, e soprattutto ha fatto questo, ha lavorato con gli americani nell'arcipelago delle Marianne. Si trova in questa situazione, siamo nel giugno del 44, gli americani attaccano Saipan, la popolazione locale per sfuggire al massacro che l'esercito americano avrebbe fatto si suicida e uccide anche i loro bambini. Il luogo è pieno di caverne, pieno di cadaveri. Questa immagine è un'immagine estremamente tenera, estremamente umana, è un'immagine carica di tenerezza, di comprensione, di cura, se vogliamo. Eppure, quello è un bambino destinato ad essere una vittima e loro, in teoria, è l'esercito che stava. Questo bambino viene trovato in una caverna e Eugene Smith dirà poi nei suoi diari il bambino morto, lo chiama, perché sembrava morto. Viene riassumato. E in questa immagine che io ho scelto perché trovo che abbia... Il contesto è un contesto di guerra, si sta parlando di un attacco, ma l'icona che noi tiriamo fuori da questo contesto è un'icona di umanità, di compassione. E quindi, dal suo contesto, l'icona che ne traiamo viene decontestualizzata. È un'immagine universale, funziona per ogni guerra, funziona... Ci racconta che i carnefici o i soldati, che a loro volta spesso sono vittime, lo vedremo dopo, sono capaci di questi gesti, sono capaci di umanità, e quindi entra nel sentimento umano e nell'umana rappresentazione della relazione. Siamo sempre nell'ambito della guerra. Joe Rosenthal segue l'attacco all'isola giapponese di Aigojima. Arriva, mentre sta sull'isola, sa che hanno piantato la bandiera americana sul monte più alto. Corre, quando arriva, gli dicono che la bandiera è già piantata. Si guarda intorno, un cameraman gli dice scusa, ti do fastidio se sono qui, lui si gira, si gira, vede un movimento strano e scatta anche senza guardare e fa questa fotografia. Non contento, siamo molti anni prima dell'avvento del digitale, e lui non sa cosa ha scattato, ha scattato senza guardare, si è girato di scatto e c'è il cameraman che ancora parla, c'è Trambusto. Non contento, scusate, non contento, organizza la sua fotografia. Il gruppo dei soldati che hanno piantato la bandiera, tutti intorno, e fa questa foto ricordo. Questa foto ricordo che verrà chiamata di Gungo, che è un'espressione per esprimere entusiasmo che l'esercito americano adotta, lui è convinto di aver fatto l'icona, ma quando la foto invece comincia a circolare e viene riprodotta, diventa un'icona, ma non è questa l'icona, l'icona è questa, in questa c'è lo sforzo, in questa c'è la tensione, in questa c'è l'attimo, c'è quell'attimo veramente fuggente della fotografia, in questa c'è una messa in scena, una posa, questa foto pure, come la foto del miliziano, verrà molto discursa, è vera o falsa, perché questa foto successiva dà l'idea che questa immagine sia stata organizzata, in realtà non è così, sappiamo la storia, la storia di questa foto diventa una storia incredibile di propaganda, sarà la propaganda di Roosevelt e poi di Truman, vince il premio Pulitzer nel 1945, riprodotta sui francobolli, diventa un'icona dello sforzo bellico americano e diventa un'icona per raccogliere fondi, viene scritto un libro da uno dei figli dei Marines che parteciparono a Iwo Jima e nel 2000 Clint Eastwood fece il film Flags of Our Father che forse molti di voi hanno visto, è una foto che per 50 anni ha continuato a svolgere la sua funzione, questa foto, non quest'altra. Questa immagine la conoscete tutti, non ha un credito perché presumibilmente è stata presa da qualcuno dell'aviazione americana, è un'immagine presa dall'aereo, si chiama Little Boy, è la bomba, è il nome della bomba sganciata su Hiroshima il 6 agosto del 45, tre giorni dopo venne sganciata Fat Man su Nagasaki e fece la metà delle vittime di Hiroshima ma in totale Hiroshima si contano 140.000 vittime immediate, molte altre come sappiamo. è un'immagine terribile, bellissima nella sua nella sua iconicità eppure è un'immagine veramente terribile anche perché se la guardate è un'immagine che non prevede feriti, non prevede morti, non prevede vittime, è un'immagine che parla quasi solo l'estetica della potenza della morte, un'estetica assolutamente astratta. E qui facciamo un salto temporale, siamo nel 1961, è il 15 agosto, tra il 49 e il 61 circa due milioni e mezzo di berlinesi cercavano di scappare dall'est quel giorno il 15 agosto Coran Schumann è un ragazzo di 19 anni, è un soldato di sorveglianza al confine, la Germania Est sta costruendo un filo spinato per bloccare tutte queste fughe. Dall'altra parte del filo c'è Peter Leibing, è un fotografo, mandato lì, hanno entrambi 19 anni, non sappiamo bene com'è andata ma dall'altra parte del filo a Berlino Ovest Coran Schumann viene incitato a saltare, vieni di qua, vieni da noi, il salto di Coran Schumann è documentato in questa sequenza, lui è lì, sta lì che ci pensa, viene incitato, prende la rincorsa e questa immagine storica che è chiamata il salto per la libertà è un'icona simbolo della guerra fredda di quello che per molti anni diciamo ha determinato i rapporti fra l'est e l'ovest e il muro di Berlino è l'esempio più atroce di questa di questa guerra il salto della libertà di Coran Schumann è un'immagine che io trovo straordinaria non solo per l'immagine in sé per questo appunto istante pazzesco ma anche per la relazione fra i due per la relazione che si crea in un istante fra due ragazzi di 19 anni uno deve scappare l'altro lo deve fotografare ed è in quella connessione di un attimo in una relazione incredibile di un attimo che nasce questa icona qui mi perdonerete perché ho avuto un momento di assoluto cedimento questa immagine è un'immagine di Don McCullin ne vedremo altre Don McCullin è un fotografo straordinario ha veramente raccontato in quasi 60 anni di lavoro le guerre i disastri la fame ha raccontato tutto ha viaggiato tantissimo quello che lo contraddistingue per quanto riguarda la mia passione per Don McCullin è veramente uno spessore un'empatia una capacità di stare di fronte alle cose di fronte al dolore degli altri per citare il saggio di Susan Sontag e Don McCullin questa capacità non solo ce l'ha ma se la riconosce ne è esattamente consapevole siamo a Cipro e il 1964 la rivista inglese Observer lo manda a Cipro dove c'è una guerra civile ci sono violenze sull'isola e lui scrive questo ho bussato ho bussato alla porta nessuno ha risposto così ho girato la maniglia e sono entrato in quella stanza faceva caldo e c'era l'odore del sangue c'erano tre uomini sul pavimento un padre i suoi figli improvvisamente la porta si è aperta e sono entrate molte persone ero spaventato pensavo mi avrebbero cacciato perché stavo violando la loro casa il loro dolore la moglie di uno dei due giovani ha cominciato a gridare di dolore nessuno mi ha chiesto di andarmene anzi volevano che mi fermassi e che testimoniassi con le mie foto Cipro mi ha dato quello all'inizio della mia carriera mi ha dato quello che poi ho capito essere empatia e ho scoperto di essere in grado di condividere le esperienze emotive vivere con loro in silenzio e soprattutto trasmettere quel dolore e quell'esperienza del dolore scusate non sono in ordine rimaniamo su Don McCullin dove vi avevo promesso un piccolo capitolo piccole pillole perché la sua produzione è sterminata qui siamo in Vietnam e è sempre Don McCullin è Don McCullin che ci dice che ha scattato questa immagine è una immagine molto celebre sono tante le sue immagini memorabili ma questa è una foto molto importante perché in questo primo piano in questa iconografia del soldato che normalmente non viviamo come una vittima è un soldato in Vietnam quindi è un soldato invasore non è una vittima del luogo lui dice l'ho osservato e non ha mai sbattuto le palpebre è un soldato sotto shock è un soldato pietrificato dall'orrore che ha visto dal compito che deve svolgere da una missione infame crudele che deve assolvere l'immagine è diventata uno dei simboli della guerra del Vietnam eppure è un'immagine in cui non succede niente pensateci spesso pensiamo che le icone sono momenti istanti decisivi azioni ci aspettiamo sempre che ci sia quasi un rumore questa è una delle tantissime poi ne vedremo altre icone silenziose e per chiudere con Don McCullin di cui vi do solo un piccolo assaggio ma magari avrete occasione ogni tanto arriva una grande mostra grandi retrospettive ce n'è stata una l'anno scorso alla Tate di Londra e qui siamo in Irlanda del Nord London Derby come vi dicevo prima Don McCullin una fotografia di Don McCullin non si è esaurita nemmeno nell'icona c'è sempre un punto di vista intenso sensibile fortissimo qui c'è un'azione c'è la storia l'Irlanda del Nord c'è la fotografia una fotografia perfetta in equilibrio c'è questo movimento dei soldati il reggimento che fa la carica con gli scudi i caschi partono per un assalto ma quello che veramente rende questa fotografia e lo vedete da voi è l'espressione della donna che si affaccia è rintanata nell'uscio di casa ma ha un'espressione di paura un'espressione di stupore c'è sempre nella fotografia di Don McCullin un doppio registro tra qualcosa di molto feroce che sta succedendo e qualcosa di molto intimo c'è sempre un punto di vista come dice benissimo anche lui quel sentire quel dolore e quell'essere testimone e quello restituirlo a noi torniamo un passo indietro icone critiche il fotografo Eddie Adams scatta la fotografia di Loan allora capo della polizia in questo momento sta giustiziando giustizia sommaria per strada l'ufficiale Viet Cong siamo a Saigon durante l'offensiva del Tet la fotografia di Adams vinse il Pulitzer nel 69 vinse il World Press Photo Picture of the Year ma anni dopo è una foto pazzesca come potete vedere però quello che mi ha colpito sempre sono le dichiarazioni che fece Eddie Adams lui confessò che non era per niente soddisfatto di questa immagine la trovava brutta ma soprattutto la trovava un'immagine critica ma critica nel senso che lui dichiara il generale uccise il Viet Cong ma io uccisi il generale con quella foto quel generale ovviamente questa foto fece il giro del mondo come aveva detto vinse tra il Pulitzer numerosi premi è una foto ancora iconica del Vietnam ma lui poi riflette su questa immagine ho fotografato un ufficiale che sparava a un altro a un Viet Cong cosa avrei fatto io al suo posto cosa avrebbe fatto ognuno di noi durante una guerra quindi Eddie Adams non è contento non si accontenta dell'estetica della foto vuole di più si mette in discussione è giusto aver condannato con questa immagine e lo dice testualmente io ucciso il generale con la mia macchina fotografica che poi non morì sappiamo che andò a New York fece il pizzaiolo eccetera eccetera scusate devo tornare un momento indietro c'è un ordine che anche i pdf fanno cose strane guardate questa immagine è un'immagine di Eugenie Caldei fotografo dell'armata rossa è il 2 maggio del 1945 sul tetto del Reichstag a Berlino è una delle foto più famose del ventesimo secolo ovviamente l'avrete vista tutti tutti quanti si posa la bandiera che sventola sulla città che è stata vinta Caldei scatta tantissime foto quando torna Mosca alla Tass il redattore nota che in questa foto guardate bene l'ufficiale sovietico ha due orologi uno al polso destro uno al polso sinistro questa immagine icona di una vittoria diventa immediatamente o può diventare icona di un saccheggio i vittoriosi non sono i vittoriosi sono dei saccheggiatori di cadaveri quindi l'immagine come ci è stata restituita a noi viene manipolata e come vedete viene cancellato un orologio su un polso l'immagine questa che vedete l'immagine questa dei due orologi verrà sdoganata moltissimi anni dopo addirittura dopo la caduta del muro di Berlino per molti anni questo si è creduto che fosse l'unica immagine l'immagine di Caldei ma la vera immagine era questa e torniamo questa immagine anche questa su questa immagine è stata costruita tantissima leggenda una una delle quali che è una leggenda che ci piace pensare che sia vera è che questa foto fece finire la guerra in Vietnam non lo sappiamo sono ovviamente illazioni però ci può piacere pensare è un'icona potentissima è il 1972 la bambina che vedete ha nove anni si chiama Kimpuk è in un villaggio al confine con la Cambogia c'è in atto un bombardamento al Napalm quello che forse in questi giorni sta succedendo anche contro il popolo kurdo non abbiamo prove non ci sono immagini ma il Napalm è abbastanza terribile e pare in questi giorni che le prime vittime hanno gli stessi sintomi quindi ustioni sulla pelle sugli arti il fotografo è Nikut è un fotografo vietnamita scatta questa immagine e vede la bambina Nikut ha perso il fratello in Vietnam anche lui fotografo poco tempo prima dopo aver scattato l'immagine prende la bambina e la porta in ospedale la danno per spacciata ma lui si ostina e costringe e li costringe a curarla non sappiamo come ha fatto ma era convinto che sarebbe sopravvissuta è sopravvissuta la settimana scorsa era a che tempo che fa da Fazio ha scritto una biografia da anni gira il mondo fa conferenze ma quello che vi volevo raccontare di questa foto è che la foto che abbiamo sempre visto è questa in realtà la foto è stata tagliata perché la foto intera è questa qua e in questa fotografia notate sulla destra c'è un fotografo quel fotografo con l'elmetto ha una macchina fotografica in mano quel fotografo con l'elmetto io ho avuto il piacere di conoscerlo anche molto bene si chiama Dave Burnett è un fotografo molto ovviamente molto in gamba anche lui ha vinto molti premi mi ha fondato un'agenzia fotografica che si chiama Contact che ha riunito i migliori reporter del mondo per tanti anni lui stesso ha fatto tantissimi lavori importanti dal Vietnam in poi un grandissimo fotografo una grandissima persona io l'ho avuto come presidente di giuria durante il wordpress foto è un uomo di 70 anni con una sensibilità straordinaria in questa foto era giovane probabilmente era meno esperto di come sarebbe oggi gli si è inceppata la macchina e lui quella foto non l'ha fatta ed è un suo grande cruccio a distanza di tanti anni però questo è un aneddoto quando l'ho conosciuto durante il wordpress photo da lui ho imparato una grande lezione di umanità perché in ogni foto che giudicavamo ed erano foto abbastanza terribili degli orrori contemporanei lui aveva sempre una parola di grandissima comprensione di grandissima umanità addirittura di grandissima commozione e quando abbiamo premiato in quell'occasione abbiamo premiato la foto di una ragazza a cui era stato tagliato il naso non us come viene chiamata un'icona della violenza sulle donne in Afghanistan e lui si è commosso dopo 50 anni di guerre David Burnett nonostante la macchina inceppata invece ha conservato intatta la sua grandissima umanità torniamo avanti perdendo questa sequenza qui abbiamo fatto un salto temporale siamo usciti diciamo dalla seconda guerra mondiale e anche dal Vietnam siamo nel 1989 è il 4 giugno da due mesi in piazza Tienamena a Pichino c'è una protesta pacifica di studenti a cui si sono aggiunti intellettuali operai sono 100.000 molti cominciano uno sciopero della fame la piazza è paralizzata la protesta si estende alle altre città della Cina il governo è irremovibile non vuole trattare non vuole concedere nessuna concessione democratica impone la legge marziale ma nessuno da aprile da quando era cominciata al 4 giugno prevede il massacro di Tiananmen perché di massacro poi si trattò stime ufficiali delle vittime non ci sono ancora si parla di migliaia e migliaia il governo cinese non ha mai dato nessun dato ufficiale sappiamo che nelle cronache cinesi si chiama l'incidente di Tiananmen nelle cronache occidentali è passata la storia come il massacro di Tiananmen Jeff Widener è un fotografo dell'associated press si trova lì e scatta questa fotografia per farlo la scatta dalla stanza dell'albergo della fidanzata di un corrispondente dove gli dice vai lì lì c'è un'ottima visuale è una foto straordinariamente iconica non solo iconica perché ci dice del coraggio di quel ragazzo che è conosciuto come unknown rebel il ribelle sconosciuto non è mai stata rivelata l'identità anche su queste immagini ci sono leggende pazzesche c'è chi dice che faccia il giornalista chi dice che vive in America da anni chi dice che si è morto durante il massacro non lo sappiamo unknown rebel sopravvive malgrado tutte le leggende come icona Jeff Widener fece questa foto che Time ha inserito tra le cento personalità più importanti del ventesimo secolo non fu il solo a farla come potete vedere la fecero anche Charles Cole ed altri io ho scelto queste due immagini che hanno due prospettive diverse questa è Stuart Franklin un fotografo della Magno che la fece da più lontano e che restituisce un po' la stessa forse sicuramente questa è rimasta più iconica perché la distanza era avvicinata ma la cosa che vorrei farvi notare è che abbiamo sempre attribuito un'eroicità al unknown rebel ma gli eroi di questa foto sono due uno è il ribelle sconosciuto ma l'altro è il pilota del tank tank man che non passò su un suo concittadino probabilmente su un suo coetaneo il carro armato si fermò quindi abbiamo due eroi della stessa icona la foto di Stuart Franklin come vi ho detto è stata inserita tramite questa foto unknown rebel è stata inserita tra le cento personalità mentre la foto di Stuart Franklin nel 2003 Life l'ha inserita come tra le cento foto che hanno cambiato il mondo quindi entrambe hanno avuto per motivi diciamo per la stessa ragione riconoscimenti e continuano a vivere con noi tra l'altro è una foto totalmente iconizzata che ha dato vita a tantissime diciamo esternazioni dall'opera di Bansky che vedete lì a sinistra a questa installazione fatta per la commemorazione in gomma a Taiwan fatta l'altro anno quest'anno per il trentennale della ricorrenza a quella che vedete in alto questo è un parco giochi in California in mezzo al deserto della California c'è una specie di piccola Disney è un parco giochi e un esule cinese trapiantato in America da molti anni ha lavorato anni sodo per recuperare i fondi e costruire come vedete guardate a grandezza più che naturale a riproporre a non rebel in California in mezzo al deserto magliette se andate su Google ci sono miliardi di magliette di a non rebel quindi l'icona funziona l'icona funziona sempre viene riprodotta diventa Franco Bollo ricordatevi la foto di Aivo Gima che vi dicevo prima a non rebel vive e qui invece siamo di fronte a un caso diverso Tom Stoddart è un fotografo inglese sta coprendo la guerra nei Balcani una guerra terribile ma questo suo lavoro questa sua sequenza riguarda un posto in particolare si chiama Sniper Alley o il viale dei cecchini è un posto a Sarajevo dove per passare rischi di perdere la vita perché ci sono cecchini ovunque e sparano sulla gente Tom Stoddart passa molto tempo lì e costruisce questa sequenza di immagini ma solo una di queste diventerà un'icona di Sniper Alley perché questa questa perché questa e non questa la bambina che sorride perché non questa la donna che passa di fianco al mito perché non questa dell'uomo che corre in realtà e questo era per introdurvi il tema che in realtà c'è un valore estetico dell'icona c'è sempre c'è una ricerca estetica guardate la perfezione di questa immagine la donna che corre che è sospesa da terra ci sono ben tre movimenti che si incrociano e quindi c'è un'estetica delle icone non possiamo farne a meno di affermarlo e c'è una ricerca della bellezza nell'immagine nel suo errore pensate a Mushroom Little Boy pensiamo a questa immagine qui dove fra tante quella rimane quella e quella che diventa l'icona di Sniper Alley in questo momento facciamo un attimo un momento di riflessione le icone ci servono abbiamo detto sì l'ho detto ci servono nonostante tutto anche se sono logorate anche se sono ambigue anche se è stato cambiato la loro destinazione d'uso le icone ci servono perché ci fanno ricordare ma esiste una gerarchia delle immagini chi realizza un'icona è consapevole di quello che fa perché in ogni icona se ci pensate bene c'è una specie di imperativo una sorta di warning ci stanno dando attenzione su qualcosa ci chiedono attenzione le icone fanno proprio questo ci chiedono attenzione non vuol dire che poi quell'icona sia giusta e buona non vuol dire che ci dica assolutamente qual è il bene e qual è il male ma intanto ci fa una richiesta di attenzione la fotografia in quest'era del terzo millennio in quest'era digitale ha accelerato enormemente le sue potenzialità è sempre stato un mezzo semplice estremamente semplice sintetico facile ma adesso ancora di più in questo momento con la produzione pazzesca che facciamo di immagini non siamo più solo i fruitori non dobbiamo aspettare le immagini che arrivano da una pellicola sviluppata mandata spedita messa sui giornali poi se vogliamo messa nei musei non abbiamo tutta questa attesa noi abbiamo immediatamente sui nostri schermi sui nostri giornali su tutti i nostri devices abbiamo una produzione sterminata di cui spesso non conosciamo la fonte noi stessi produciamo immagini nelle guerre contemporanee pensate alla Siria le prime immagini autentiche che abbiamo avuto dall'inizio del conflitto erano le foto fatte dai cellulari dai ragazzi siriani che si arrampicavano sui minaretti nessun fotografo riusciva ad entrare quindi oggi dubitiamo ancora di più perché siamo sommersi eppure quella funzione delle icone di restare e di essere la nostra memoria di essere lì a portata di mano in un cassetto per ricordarci cosa è successo un'ingiustizia una catastrofe i genocidi loro sono lì e ci ricordano quello che sappiamo quello che sappiamo ma spesso non vogliamo vedere pensate all'ambiente allontaniamoci un attimo dalla guerra mentre noi guardiamo un orso su un tappetino di ghiaccio che galleggia in mezzo alla agli effetti del surriscaldamento del pianeta noi non possiamo far altro che sentirci colpevoli in qualche modo quello che sta succedendo a quell'orso che sarà una delle prime vittime è la nostra responsabilità se guardiamo e guardiamo distrattamente ma siamo obbligati perché il flusso delle immagini è talmente irruente che non possiamo farne a meno se guardiamo i pesci soffocati dalla plastica o leggiamo queste notizie di un'isola grande come la Francia di plastica che sta galleggiando nell'oceano noi non possiamo non guardarle non possiamo non sapere quanto c'è della nostra responsabilità o un cavalluccio marino aggrappato a un cotton fioc che sappiamo solo adesso dopo tanti anni che li usiamo impunemente che non non si distruggono sopravviveranno a tutti noi ai figli dei nostri figli e quel cavalluccio marino sott'acqua avvinghiato al cotton fioc ci dice che ci siamo noi in quelle responsabilità a volte abbiamo dei temi talmente astratti che per sapere che sono veri pensate alla storia della clonazione vi ricordate questa fantasia questa paura della clonazione però sembrava un po' una storia da romanzo di fantascienza non la sapevamo tanto bene poi abbiamo visto la foto della pecora Dolly e tutti tutti abbiamo creduto che la clonazione era possibile e che ci avrebbe riguardato quindi le foto icone da autore non da autore hanno questa funzione dunque cos'è un'icona è un'estrema sintesi capace di circolare molto velocemente perché l'icona viaggia da sola mentre il racconto fotografico ha bisogno di una sede museale ha bisogno di un libro prima di tutto nella sua prima funzione ha bisogno degli organi di informazione ha bisogno che la stampa lo diffonde nell'icona però è contenuta una porzione minima di realtà è tutta concentrata lì tutto lo scenario viene tagliato fuori e l'icona è là questa foto altro fotografo straordinario James Nacktway e in Ruanda in Ruanda nel 94 c'è stato un genocidio terribile ad opera di un gruppo etnico gli Utu contro i Tuzzi in 100 giorni le stime parlano di un milione di morti l'occidente è stato fermo a guardare i pochi caschi blu belgi che c'erano mi pare fossero belgi furono mandati via il paese restò isolato e ci fu questa mattanza James Nacktway dicevo è un fotografo che ha lavorato tantissimo per icone è un fotografo estremamente cinematografico sua è l'immagine del disastro delle torri gemelle implose ma sono tantissime le immagini di Nacktway poi ne vedremo anche un'altra è un fotografo che ha una visione potente più potente di moltissimi altri fotografi per questo è diventato lui stesso quasi un'icona le sue le sue foto la sua presenza sul campo ha fatto un documentario su se stesso che si intitola World Photographer c'è stata una grande retrospettiva l'anno scorso a Milano su tutto il suo lavoro ma anche guardando quella mostra che non so se qualcuno di voi ha visto io l'ho vista è una mostra che funziona per icone per grandi affreschi funziona perché ha una grandissima capacità sintetica di ridurre di tagliare fuori lo scenario anche questa foto è una foto di un genocidio ed è una foto come quella di Nacktway della vittima Tuzzi del ferito Tuzzi questa è una foto del genocidio è una forza comune a Sebrenica una foto del 96 di Gil Perez altro grandissimo fotografo e narratore di storie e Gil Perez si definisce quasi un cercatore di prove un fotografo forense si definisce perché cerca proprio le prove delle colpe delle ingiustizie e in questa immagine che taglia fuori tutto lo scenario non c'è un prima non c'è un dopo non c'è l'estrazione non c'è tutta la sequenza a cui siamo la fotografia ci abitua alle sequenze narrative invece l'icona funziona per questa porzione l'icona è struggente spesso quasi sempre ora siamo qui a parlare di guerra l'icona è terrificante ma sappiamo che è una porzione e in questa sua concentrazione ha questa forza nell'icona c'è l'offerta l'immagine ci sta offrendo un punto di vista talmente forte in cui quasi sempre sappiamo chi sono le vittime e chi non lo sono perché ce la dà da una distanza così ravvicinata lavora in senso opposto alla fotografia narrativa alla fotografia documentaria che richiede una giusta distanza è la fotografia narrativa che concatena le immagini c'è un prima c'è un durante c'è un dopo e riusciamo a riflettere sulle cause a vedere spesso anche vittime carnefici sotto luci diverse luce e ombre delle storie perché poi le storie hanno luce e ombre sempre anche le storie di guerra come abbiamo visto in questi esempi mentre preparavo questo 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 talk questo incontro cercavo di ricordarmi di non saltare dei momenti importanti della nostra storia e quindi ho pensato alla guerra in Cecenia e negli anni della guerra in Cecenia io non facevo ancora il mestiere che faccio oggi oggi lavoro nei giornali mi occupo dell'immagine del giornale poi faccio tante altre cose collaterali ma all'epoca invece producevo immagini lavoravo per una grande agenzia che si chiama Contrasto che era un'agenzia di produzione siamo negli anni 90 c'era ancora una fotografia analogica non c'era ancora l'invasione del digitale quindi le storie si costruivano con molta fatica anche con molta pazienza e si cercava di sviluppare dei progetti a lungo termine in quegli anni la Cecenia per me era stata una guerra molto importante perché i grandi fotografi avevano era una guerra vicino casa era una guerra terribile e della guerra in Cecenia vi presento un altro lavoro ma prima faccio un passaggio sempre in Actway appunto grande visionario questa è la città di Grozny la capitale quello che rimane dopo la battaglia di Grozny che aveva raso praticamente al suolo la città questa immagine è un'immagine che vi ho portato volevo farvi vedere perché è un'immagine che è stata copiata questa è una foto del 96 è una foto che è stata copiata decine centinaia di volte da tantissimi reporter se fate un po' un giro dentro i reportage di tutte le guerre è un'immagine che è diventata talmente iconica perché in Actway decide di tagliare la bocca del bambino perché mette la testa al centro di questa strada devastata di questa prospettiva di Grozny che è un'immagine pazzesca ma perché la taglia in quel modo perché ci lascia solo lo sguardo di quel bambino perché in quel taglio di quella immagine lui ci costringe ad avvicinare lui avvicina quel ragazzo a noi lo avvicina e quello sguardo che è uno sguardo fiero uno sguardo severo uno sguardo muto ma uno sguardo potentissimo risalta tagliato in quel modo e questa immagine è stata molto emulata le icone vengono ma poi ci arriveremo copiate 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 ricreate non solo per volontà di emulazione non stiamo qui a dire che tutti si copiano succede ovviamente non solo nella fotografia ma spesso vengono copiate perché abbiamo degli ecchi di immagini nel nostro inconscio a volte non siamo nemmeno consapevoli scegliamo una porzione scegliamo un'inquadratura scegliamo un taglio dell'immagine ma perché abbiamo quell'eco dentro di noi l'abbiamo già vista e in qualche modo la ricreiamo vi stavo dicendo che mentre pensavo alla Cecenia pensavo a un lavoro che io ho amato molto in quegli anni vi ho portato tre immagini perché nessuna è un'icona o nessuna lo è diventata scusate Stanley Green è un fotografo americano è morto qualche anno fa prematuramente ha fatto molti lavori ma il lavoro sicuramente il reportage più grande a cui ha dedicato dieci anni del suo lavoro è stato la Cecenia dal 94 al 2003 lui ha vissuto ha abitato ha viaggiato molto ha abitato a Grosni ha viaggiato nei villaggi e ha restituito un lavoro molto complesso Open Bound è un libro di 220 pagine io l'ho risfogliato non lo prendevo in mano da tanti anni ma l'ho risfogliato perché cercavo di includere lui in questo mio percorso cercando qualcosa eppure nessuno eppure in quel libro c'è tantissimo della Cecenia c'è un'empatia con quel luogo c'è una forza si capisce che ha lavorato con la gente è stato con la gente è abitato nelle case della gente ci stanno tantissime testimonianze dentro le case nella vita di strada tra le macerie vittime cadaveri feriti ospedali c'è tutto c'è un racconto eppure di Stanley Green della Cecenia per chi non è addetto ai lavori nessuna di queste immagini è rimasta nella storia come immagine come icona questo non vuol dire che questo lavoro è inferiore o è meno importante è esattamente nella mia opinione ovviamente è esattamente quello che cercavo di dirvi prima l'icona funziona da sola funziona perché taglia fuori tutto perché condensa ci offre una porzione piccola di un grande scenario mentre la fotografia narrativa ha bisogno di tutto questo concatenarsi e di dilatare dilatare la storia dilatare gli eventi farli anzi soprattutto crearli in connessione per arrivare poi a un quadro dove noi possiamo orientarci possiamo non orientarci però questo è l'intento Stanley Green era un reporter era un fotografo narratore che non ha prodotto icone ma ha prodotto un grandissimo lavoro e a proposito di emulazione non c'è nessuna cattiva volontà non c'è nessuna cattiva volontà in queste icone questa è una foto di Osin che è vincitrice del World Press Picture of the Year del 1998 siamo in Algeria l'Algeria è nella mozza del fronte islamico e di qua siamo nello Yemen nel 2012 e lei è una madre che è andata a cercare il figlio ci sono state delle proteste e i ragazzi che hanno dimostrato hanno occupato una chiesa mi pare abbandonata e sono tutti vittime dei gas lanciati si assomigliano assomigliano alla pietà certo e il discorso che facevo prima assomigliano alla pietà sono ecchi ecchi di quello che noi abbiamo dentro della nostra cultura del nostro immaginario della nostra visione Samuel Lavanda non ha cercato di copiare Ossin e Ossin a sua volta non ha cercato di copiare Michelangelo è abbastanza evidente che di fronte a questa scena non puoi far altro che fotografare e restituire questa eternità di quell'attimo quando Samuel Lavanda ha vinto il Wordpress nel 2012 io ero in giuria e non ero d'accordo a far diventare questa immagine la foto vincitrice c'erano altre immagini quell'anno che mi sembravano più interessanti ma la giuria è frutto come tutte le giurie di una mediazione fra tanti giurati e tanti dibattiti quando vinse ci fu una grandissima polemica su questa immagine e la polemica era proprio questa è una piccola porzione che dentro quella sintesi non offre un pensiero offre lo shock dell'immagine o l'empatia dell'immagine o il sentimento lo struggimento dell'immagine ma non lascia uno spazio di riflessione di dubbio di pensiero e quindi fu molto contestata ma ogni vittoria viene sempre contestata ovviamente ci sono sempre i fautori dell'immagine del dubbio ci sono i fautori dell'immagine formalmente esteticamente potente e poi ci sono i critici della storia che dicono che in quell'immagine non si può capire come vivono gli Yemeniti come non si poteva capire nel 98 come viveva la popolazione algerina sotto il FIS il fronte islamico e via dicendo arriviamo a icone moderne tutte conoscete questa immagine è la mattina dell'11 settembre Richard Dew è un fotografo di Associated Press il suo capo di desk lo manda a fotografare una sfilata di moda prima mano e a New York sta andando la sua sfilata quando lo richiamano gli dicono di dirigersi verso le torri perché c'è stato un attentato lui arriva e scatta tantissime fotografie perché come sapete sono stati tantissimi i Falling Men che si sono buttati dalle finestre è una fotografia che in questo discorso della guerra avvicinandoci al presente alle guerre contemporanee non potevo non inserire perché è una fotografia che è una fotografia in cui tutti noi più di tante altre guerre ci siamo identificati perché è la guerra in casa è la guerra all'Occidente è la guerra scusate di un è la guerra di un estremismo incomprensibile come è stato l'estremismo come è l'estremismo islamico come è stato prima Al-Qaeda e poi l'Isis è incomprensibile ed è arrivato in casa e anche se quella casa è l'America è la nostra casa è la casa del primo mondo è la casa dell'Occidente è qualcosa che è assolutamente imprevisto e Fallenman diventa un'icona di terrore ma diventa talmente tanto iconica questo corpo che scende come un tuffo come una freccia come un proiettile è un gesto così estremo così disperato che non può non far parte di questa breve sommaria catalogazione che stiamo facendo oggi qui ma questa foto è stata talmente terrorizzante per noi che è stata addirittura censurata venne pubblicata ma poi è stata bandita questa e tutte le altre del Fallenman per molti anni il New York Times ha cominciato a ripubblicare il Fallenman dal 2007 quindi ci sono stati sei anni per digerire questa immagine e per farla tornare ad essere un documento di quell'atrocità è un documento di quell'atrocità e nella sua estetica terribile è giusto che circoli cosa distingue un'icona da una fotografia di un evento secondo me il corpo il corpo è l'oggetto dell'icona l'icona ha bisogno del corpo di una presenza fisica pensateci perché noi la forza delle icone abbiamo detto nella sintesi e nell'attimo ma è anche nella nostra capacità di identificarci nelle icone c'è il corpo c'è il corpo umano c'è la vittima c'è una porzione di corpo ci sono molti corpi ma è un corpo prendiamo il caso del corpo di Gheddafi il corpo di Gheddafi è il corpo di un dittatore che per 42 anni ha tenuto il suo paese la Libia sotto scacco Gheddafi viene ucciso e siamo a misurata è il 20 ottobre del 2011 Fabio Bucciarelli è un fotografo italiano è un reporter trentenne è un ingegnere che abbandona gli studi di ingegneria no un ingegnere che abbandona la professione da ingegnere e si dedica alla fotografia si innamora è tuttora molto molto innamorato del fotogiornalismo comincia a viaggiare in quegli anni è giovane ha appena trent'anni forse nemmeno segue la primavera araba e casualmente dopo essere stato in Egitto eccetera casualmente per una casualità della delle circostanze fortuita eccezionale abbastanza eccezionale lui fotograferà prima di tutti gli altri e in modo eccellente la foto del cadavere di Gheddafi sentiamo come ce la racconta Renata un breve video in risposta alle tue domande e alle riflessioni sul fotogiornalismo e che cosa rende un'immagine unicola in particolare in particolare mi chiedo riferimento alla fotografia di Gheddafi scattata nel libero 2011 un piccolo contesto storico oramai erano otto mesi di conflitto civile contro Gheddafi e il suo esercito e dopo essere stato scacciato da Tripoli Gheddafi si è rifugiato a Sia la città natale l'ultimo bastione Gheddafi sull'immagine mi chiedi sono reso conto che sto facendo un'immagine importante beh sicuramente giornalisticamente importante che l'immagine era presentata alla fine della guerra fino al punto di un conflitto civile è un'immagine che viene dopo 42 anni di dittatura e 8 mesi di conflitto quindi l'importanza e la prova l'immagine di quello che è successo sicuramente giornalisticamente rende il fatto importante storicamente importante inoltre mi chiedi se mi ha cambiato come professionista se mi ha reso più celebre e ho offerto altre possibilità personalmente ti dico che mi ha sicuramente aiutato per capire che stavo facendo le cose nel verso giusto un tipo di giornalismo al quale mi sento tuttora comico professionalmente mi ha aiutato a far vedere il resto del lavoro fatto tutto comunque ho cominciato a documentare il conflitto libico nei suoi fagli iniziali prima di intervento nato in Ciro e la maica e questa immagine ha dato stato uno specchio ha aiutato a vedere il resto del lavoro ma soprattutto credo che l'importanza sia che cosa fai dopo che cosa fai che cosa ti occupi personalmente ho continuato quelle state pure inizio da allora ho cominciato a documentare i conflitti sono stato in Siria l'anno successivo e in altri paesi questo sicuramente ha dato valore e mi è puntato professionalmente a fare il resto del lavoro poi mi chiedi ancora che differenza c'è fra quell'immagine e le altre fatte penso che non sia io per dare questa risposta magari dei critici dei curatori sicuramente tu tu puoi puoi dare una risposta migliore della mia e interessante invece quando mi chiedi a riguardo delle immagini iconiche se non ancora sono oggi immagini iconiche se vengono fatte penso personalmente che quello che rende un'immagine iconica sono l'unione di diversi fattori di diversi contesti sicuramente il fattore storico quindi quanto vuoi l'immagine è importante storicamente la storia dell'uomo dopodiché più che la qualità o come è composto il frame è importante quello che rappresenta l'immagine dopodiché ci sono anche molte ragioni aleatorie che è difficile sapere soprattutto in questo momento dove la tecnologia e i social media aiuta molto la diffusione se è importante sicuramente l'immagine diventa iconica quando è in grado di spiegare la storia nella sua completezza e sia senso diciamo che questo qua è uno degli obiettivi almeno personali e fotogiornalistici grazie bucciarelli dice esattamente il contrario di quello che ha detto dice che un'immagine nella sua completezza ci spiega la storia ma i fotografi diciamo credo che abbiano una abbiano bisogno di una grande motivazione bucciarelli è uno che è sempre in prima linea ha un grandissimo coraggio è anche un fotografo che Fabio è cresciuto anche molto ma credo che abbiano bisogno di diciamo una grande forza motivazionale sicuramente io non ci andrei mai in serie devo dire la verità ho anche paura sotto casa mia quindi per carità per cui cerco di capire in quel suo un'immagine contiene la storia c'è qualcosa di estremamente presuntuoso ma se poi lo riportiamo a un ragazzo di Torino che da dieci anni fotografa tutti i fronti di guerra del mondo credo che quella sua quella specie di presunzione sia in realtà il motore anche di tanto coraggio e tanto lavoro c'è una frase che dice Tom Stoddart l'autore della sequenza di Sarajevo è molto bella Tom Stoddart quando fa Sarajevo è un uomo più maturo ma dice fotografo Sniper Alley è stata un'esperienza terribile tutta quella guerra per me è stata un'esperienza terribile perché in ogni momento mentre fotografavo sapevo che ero lì a due ore di volo da casa mia da Londra ero a due ore da Itro cioè io me ne sarei potuto andare in qualsiasi momento la gente che era lì la gente che io fotografavo era costretta a vivere lì quella era la loro casa quella era la loro terra quindi un approccio estremamente differente comunque lasciamo quello che volevo farvi notare che ci sono state tante foto quello che Fabio Bucciarelli non ci ha raccontato in questa intervista ma il video mette probabilmente mette un po' di timinezza e che invece mi sono fatta raccontare nelle domande che gli ho fatto al telefono e abbiamo parlato prima di fare questo video che poi ha fatto da solo è stata la circostanza lui stava camminando normalmente stava lì cercando si era diffusa la voce di questo dell'uccisione di Gheddafi e c'erano dei miliziani eccetera eccetera e lui ha detto e gli ha chiesto ma voi sapete dove hanno portato questo corpo perché la cosa che girava lì a misurata quel giorno era dove è il corpo di Gheddafi finché non abbiamo il corpo e torniamo al discorso del corpo finché non abbiamo il corpo non abbiamo la prova il dittatore non è morto e quindi mentre cresceva questa tensione lui ha chiesto e quelli gli hanno detto si sali in macchina che ti portiamo e dice io sono salito certo rischiavo non lo so dove mi potevano portare comunque mi hanno portato lì eccetera solo io e ho avuto il tempo di fare quella foto quella foto che ha un'inquadratura perfetta è una foto che contiene molti echi di fotografia di altissima fotografia se vedete le immagini che hanno fatto altri che ha fatto il fotografo di EPA eccetera un fotografo locale uno stringer dell'agenzia di stampa spagnola è una foto completa colori c'è tutto il corpo di Gheddafi le ferite ma quella foto è una foto che si presta ad essere proprio evocativa iconica come avete visto c'è la mano c'è questa mano sul corpo la luce è perfetta la macchia ci sono quei due piedi dietro che sono un po' inquietanti un altro piede cioè è una foto è una composizione estremamente estetica è una ricerca estetica fotografica c'è la mano di un fotografo che cerca una sua autorialità cerca di determinare di lasciare un segno di creare un segno e quindi di creare appunto un'icona anche questa immagine l'ho scelta in modo molto sentimentale prima perché volevo citarvi la guerra in Ucraina è una guerra dietro casa siamo nel 2014 è un omaggio a Andy Rocchelli un fotografo di Cesura un collettivo di fotografi molto in gamba molto motivati che hanno cambiato lo scenario della fotografia del fotogiornalismo e della fotografia autoriale in questi anni nel nostro paese Andy Rocchelli ha fotografato questo gruppo di bambini adottati da una famiglia e nascosti in questo rifugio antibombe a Sloviansk e pochi giorni dopo aver scattato questa fotografia Andy Rocchelli è stato ucciso a Sloviansk c'è un processo c'è stata adesso un'udienza è stato rintracciato il responsabile dell'uccisione è stato ucciso con il suo collega che era il suo fixer il suo aiutante sul campo e ci tenevo perché è una guerra vista con gli occhi dei bambini è un'immagine ci sono tantissime l'Ucraina ha prodotto tantissime immagini questa immagine qui è come tornando facendo un parallelo molto un volo assolutamente pindarico torniamo all'immagine di Hugh Smith di Saipan c'è tantissima compassione c'è l'infanzia c'è il futuro c'è il futuro negato noi non sappiamo cosa ne è stato di quei bambini sappiamo che Andy Rocchelli un ragazzo di 30 anni un fotografo un professionista anche con grande esperienza è stato ucciso poco dopo in un modo molto ambiguo peraltro facciamo un passo indietro torniamo nel 2006 siamo in Libano questa è un'immagine di Paolo Pellegrin Paolo Pellegrin aveva l'imbarazzo della scelta veramente un po' come Don McCullen diciamo varie generazioni successive Pellegrin è un fotografo di 55 anni che probabilmente voi conoscete perché è stata la sua retrospettiva antologia è stata ospite qui al Maxi una grande mostra curata da Germano Celant in cui ripercorre in modo diciamo abbastanza creativo tutto il suo percorso e Paolo Pellegrin è un grandissimo fotografo veramente ha attraversato tutta diciamo 30 anni della storia del mondo inviato del New York Times ha prodotto con il suo collega Scott Anderson che è il giornalista del New York Times con cui collaboro da tanti anni con lui ha prodotto questo libro edito da Contrasto tra l'altro Terre Spezzate che è una testimonianza molto molto importante anche una un bellissimo matrimonio tra le parole e le immagini tra la la forza di lavorare insieme un esempio di giornalismo di inchiesta quello che diciamo si fa sempre meno soprattutto nel nostro paese e quello che invece ci ha restituito dal secolo scorso a oggi tantissima informazione grazie proprio alle inchieste ai fotografi ai giornalisti all'andare sul campo e ho scelto questa immagine tra tante veramente ne avrei potute scegliere moltissime altre quello che parlo con le parole di di Paolo Pellegrin lui dice far vedere è un dovere non abbiamo alternative io non ho alternative smettere di fotografare no fra 50 anni qualcuno dirà che minimizzerà quell'evento quella tragedia quella guerra ma io so che quello che ho testimoniato sarà comunque un documento e anche che giustifica e secondo me lo fa in modo intelligente sensibile quale è l'uomo e il fotografo il dovere di testimoniare è anche una ricerca estetica non si sottrae a quello e poi dice una cosa che secondo me è molto importante una fotografia non è un'ideologia che stravolge le menti e non racchiude tutta la storia potremmo aggiungere ma è un seme e se sposta a qualcosa lo fa piano crescendo dentro chi la guarda ecco se pensiamo alle fotografie se pensate alle fotografie quando le guardate come un piccolo seme che può crescere dentro di voi nella consapevolezza di qualcosa ma anche nell'avvertimento di qualcosa che non dovrà più succedere in modo differente e siamo scusate scusate siamo molto e in modo differente ma per certi aspetti un altro fotografo che non viene dal che utilizza il linguaggio del fotogiornalismo e della fotografia di guerra ma lo elabora in modo creativo in modo artistico è Richard Moss Richard Moss tra il 2010 e il 2013 va in Congo dove c'è una guerra in corso dalla fine degli anni 90 una guerra che ha fatto più di 5 milioni di morti ma che viene spesso dimenticata Richard Moss che fa? fa un'operazione artistica ma un'operazione geniale a mio avviso prende una pellicola che si chiama Coda Cairochrome è una pellicola infrared raggi infrarossi è stata usata dai militari per come vedete altera i colori e alterando i colori permette nell'uso militare di scovare i militari dentro la vegetazione perché manipola il colore della mimetica rispetto alla vegetazione e quindi come vedete emergono Richard Moss invece fotografa questa guerra in un lavoro a lungo termine e restituisce vi ho portato un'immagine è iconica forse è iconica forse non è nemmeno iconica il suo lavoro è iconico e comunque spezza una consuetudine ci costringe a pensare alla guerra in un modo diverso intanto viene veicolato in modo diverso perché diventa a lato fa un documentario vince molti premi viene esposto in gallerie in musei diventa una mostra quindi se anche non segue gli organi di informazione per documentare quel fatto quell'evento quella guerra però si sposta su un altro piano e ci fa e ci parla ci fa parlare di una guerra in Congo di una guerra dimenticata torniamo un attimo indietro a queste immagini terribili e mi avvio alla conclusione ci sono icone che nascono per esibire e non per denunciare il conflitto in Iraq è stato seguito da migliaia di fotografi migliaia di professionisti eppure se riguardiamo a tutta la produzione che è stata fatta niente è più potente di queste orribili terrificanti immagini scattate da uno scuro banale squallido carnefice esergente dell'esercito americano queste immagini questo Cristo contemporaneo con i cavi elettrici attaccati all'estremità degli arti o questo ammasso con i sorrisi a favore di camera o il cadavere il cadavere del corpo mutilato ferito al guinzaglio della di Lindy England sergente dell'esercito americano condannata per questo a tre anni mentre Sabrina Herman che vedete qui condannata a sei mesi ed è la stessa autrice di questa impalcatura di questa installazione del moderno Cristo tutto questo succedeva da Bugaib nel carcere famigerato famigerato durante la dittatura di Saddam Hussein carcere alle porte di Bagdad famigerato perché quello che l'esercito che doveva liberare il paese dopo queste immagini nella coscienza di tutti non è più stato un esercito di liberazione le immagini raccolte di Abu Ghaib sono più di duemila il pentagono nel duemila non mi ricordo se nel duemila non mi ricordo la data quindi non voglio dire stupidaggini ne ha licenziate per ora centonovantotto ce ne sono altre mille ottocento e torniamo a noi nel gran finale vi ho detto che le icone hanno bisogno di un corpo ma ci sono anche eccezioni ci sono icone che non hanno bisogno di un corpo questa è un'immagine iconica è il primo maggio del 2011 Pete Souza è il fotografo della Casa Bianca è nella Situation Room cosa stanno facendo i più potenti dei potenti stanno assistendo all'invasione e alla cattura di Osama Bin Laden non vediamo il cadavere di Osama Bin Laden non vediamo la scena dell'azione non la vediamo nemmeno sui monitor ma la foto resta un'icona per la forza espressiva di tutti quei personaggi per l'attenzione che la fotografia riesce a restituire è un'eccezione rispetto al discorso del corpo dell'icone è un'icona perché c'è la notizia non c'è il corpo ma c'è la notizia e c'è l'emozione e tanto basta io l'ho inserita magari è assolutamente pretestuoso e comunque è assolutamente una scelta personale siamo in Sidia nel 2017 questa immagine è un'icona senza fotografia è un'immagine tratta da un video tratta da un video di Edlib Media Center è un gruppo di militanti ovviamente contrari al regime ed è una foto è un frame del video dopo un attacco chimico cosa rende questa foto un'icona? il fatto che Liberation decida di farne la prima pagina il fatto che decida anche di oscurare il dietro è una scelta di Lionel Charrier il direttore della fotografia di Liberation che la giustifica e dice abbiamo oscurato abbiamo dato risalto a quei corpi è un'immagine straordinaria un'immagine potentissima è un'immagine crudele sì è un'immagine crudele è un'immagine troppo violenta sì forse è un'immagine troppo violenta dice Charrier ma non mentre il regime siriano nega questi attacchi noi come giornalisti non possiamo far altro dobbiamo usare dobbiamo a volte scioccare dobbiamo offendere c'è uno slogan citato anche da Susan Sontag nel suo saggio davanti al dolore degli altri è lo slogan con cui Paris Match nel 49 fa la sua pubblicità e dice il peso delle parole e lo shock delle immagini Lionel Charrier fedele a quel motto dice quando un regime nega noi giornalisti abbiamo il dovere di informare se per informare servono delle cose che scioccano ma che testimoniano io ho cercato questa fotografia in rete non l'ho trovata non c'è per questo ho deciso di portarvi questa copertina perché è importante sono assolutamente d'accordo con lui e lui dice potevamo usare tante altre immagini ma ho scelto questa perché in questa quando fai una pagina con questa hai assolutamente tutta la sintesi di quella tragedia le icone annegano ve l'ho detto prima siamo sotto questa pioggia di immagini sotto questa cascata di immagini nel 2011 Erik Hessels è un creativo olandese pubblicitario artista fotografico e tantissime cose un uomo dalla creatività straordinaria tutta la sua elaborazione creativa nasce dalla rete in rete trova le cose in rete le elabora ha fatto dei lavori straordinari andatevelo a guardare quello che fa viene incaricato da FOAM prestigiosa fondazione olandese con museo eccetera che lavora sulla fotografia sui linguaggi della fotografia e che guarda al contemporaneo e alle sue evoluzioni nel 2011 FOAM mette in piedi questa esposizione what's next cos'è il futuro dove andiamo Eric Kessel crea questa installazione scarica per 24 ore credo da flick mi pare immagini per 24 ore e le stampa e crea questa installazione il senso di questa installazione è siamo così sommersi riusciamo a riconoscere le icone camminiamo sotto questa possiamo camminare sopra queste immagini possiamo esserne travolti vi ho scelto l'immagine della bambina perché rende bene la misura dalla prospettiva annegando sotto queste immagini siamo ancora capaci di guardarle o dobbiamo comunque in qualche modo stare molto attenti perché noi oggi siamo non solo ci dobbiamo chiedere come le guardiamo ma la cosa pazzesca è che noi siamo dei consumatori voraci di immagini e non mi riferisco solo alle immagini fisse della fotografia ma valgono anche quelle in movimento e quel consumo ci fa distinguere cos'è una porzione o addirittura tutta la storia cos'è una porzione cos'è la storia cos'è successo cos'è stato di chi è la colpa di cosa siamo responsabili quanto ci siamo noi e per chiudere arriviamo ai nostri Cortis e Sonderheger chi sono e che cosa sono queste immagini è un progetto nato per caso sono due fotografi due artisti uno è svizzero uno è tedesco 36 anni 40 anni giù di lì poco poco meno di 40 anni loro nel loro atelier cominciano a ricostruire le icone della fotografia le icone della storia e ne producono tantissimo il progetto si intitola ovviamente icons sono dei modellini sono molto carini certo penserete eh sì sono carini ma cosa ci vuole dire perché ci dovrebbe piacere Cortis dice quando quello che mi sono chiesto prima di dar vita a questo progetto è stato cosa può dire oggi una fotografia se ci limitiamo a vederla o se riusciamo ad andare oltre la semplice immagine e che rapporto esiste tra il vero e il falso visto che siamo tormentati dal falso e siamo sempre più dubitanti per dare una risposta a tutti questi questi siti ho creato questi modellini solo per porre per il pubblico l'attenzione su quello che guardano e sul rapporto che c'è con la realtà che ci circonda l'esperimento può sembrare un po' ingenuo anche un po' naif il risultato è un lavoro straordinario che sta entrando nelle collezioni dei musei e dei privati e come vedete io ne ho portate solo tre tra le nostre di questa giornata citate e ho portato anche il nostro unknown rebel perché Cortis sempre durante un'intervista ci racconta che è stata una delle più difficili da ricostruire ci ha messo due settimane per riprendere i modellini ricostruire la strada eccetera eccetera un lavoro minuzioso ma secondo me è importante è un lavoro che destruttura certo un lavoro che va a destrutturare le immagini e che però quello che lui dichiara anche in modo molto semplice ci impone di riflettere su cosa guardiamo sull'andare al di là delle immagini sul vero e il falso sono dei falsi di una storia vera di una storia sono rappresentazioni di rappresentazioni per concludere le icone urlano abbiamo detto contengono una porzione ma tutte le altre fotografie che fanno poveracce le tacciono no 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 pensiamo al lavoro di Salgado grande cantore dell'umanità che viaggia per grandi temi non è un fotografo iconizzato no non abbastanza se volendo cercare ma i suoi corpi di lavoro sono talmente grandi sono talmente narrativi che si esplicano ormai nei musei o in grandi portfolio o in grandissimi libri è un sociologo spesso invece il fabbricatore di icone è un regista è un cineasta è un romanziere cerca l'attimo quindi la fotografia è sempre stata sedotta dalla guerra c'è qualcosa di irresistibile nella guerra per la fotografia c'è la magnificenza del dolore la monumentalità e nella guerra c'è la monumentalità dell'ingiustizia documentare pericoli e ingiustizia è il mestiere della fotografia il primo mestiere della fotografia giornalistica ma funzionano se suscitano delle reazioni se ci costringono a pensare quando guardiamo le icone come abbiamo visto oggi ci dobbiamo anche chiedere spesso quasi sempre sono le migliori immagini o è la migliore tragedia stiamo ragionando su un'estetica o il fatto è rilevante io ho cercato nelle cose che vi ho fatto vedere oggi di creare un equilibrio fra un'estetica una ricerca di quell'estetica e un fatto mi sono incaponita cercando di spiegare la cecenia di Stanley Green che non aveva prodotto icone quindi come le giudichiamo le icone dal peso della storia che rappresentano o dalla sua forza espressiva e poi quando la guardiamo sappiamo che chi l'ha realizzata l'ha premeditata o è assolutamente casuale come avevo detto prima e lo ripeto in conclusione spesso le icone diventano manifesti propaganda sono strumento del potere sono strumento della difesa sono strumento degli eserciti e spesso anche delle vittime sono oggetto dei processi come dice Gil Perez ma una fotografia racconta pochi istanti una frazione di secondo di quello che sta succedendo quindi alla fine di tutto questo percorso mi sento di concludere questo questo veloce perché ovviamente è parzialissimo racconto delle icone dalla da capa a sonda regger le immagini sono uno strumento fantastico per ricordare pensate ai ricordi anche ai vostri ricordi ogni ricordo non è un'evocazione di un'immagine ce l'abbiamo dentro di noi i nostri i personali gli amori i lutti la perdita ogni ricordo è un'evocazione di immagine quindi le immagini sono questo straordinario strumento della memoria oggi siamo molto in pericolo siamo molto fragili di fronte a questa montagna che Kessels ci ha messo sotto i piedi e ci ha permesso di affogare dentro la montagna di immagini dobbiamo fare pulizia il nostro senso critico deve essere sempre sempre più attento sempre più sviluppato dobbiamo dubitare ma nello stesso tempo forse dobbiamo vedere meno ma dobbiamo guardare meglio guardare meglio questo è l'unico è l'unico auspicio che posso che posso fare e che posso consigliare a voi ma anche a me stessa che passo la vita davanti alle immagini e dubito però anche io ne sono vittima perché non ho più il controllo di quanto arriva e non ho sempre la forza di dubitare e di andare a cercare la fonte di quello che arriva non lo so se oggi è possibile e non so verso quello che andiamo sicuramente in una economia ecologista credo che guardare meglio imponga anche di vedere un po' meno e di fare un po' di pulizia e di sviluppare sviluppare sempre di più il nostro occhio critico grazie grazie sono stata nei tempi e quindi sono sono stata nei tempi sì non mi fanno nessun segno nessuno ha dormito va controllato uno per uno adesso nelle ultime file non ci arrivo però grazie il Signore mi conforta è vivo sono tutti svegli e sono non vedo da lontano quindi chiunque mi saluti non vedo saluto tutti ma no ho gli occhiali da vicino e se avete delle domande e se c'è ancora tempo me lo devono dire non so io io ho messo il cronometro quindi sono stata nei tempi però se avete delle domande sono ben contenta di dispone facili mi raccomando facili prego prego aspetta che io sono un po' ceno ah ecco grazie è già pronto grazie dico dato il tema che lei ha trattato e le argomentazioni che ci ha portate è un po' difficile rimanere nella domanda facile quindi probabilmente la mia sarà un po' complicata ma è una riflessione che voglio sottoporre a lei mi pare di aver capito che a un certo punto almeno gran parte dei fotografi che poi hanno dato luogo a queste fotografie che sono diventate icone hanno sostenuto che non c'è un'ideologia non c'è un messaggio ideologico all'origine delle foto io invece ho la sensazione che soprattutto nel tempo è diventato sempre più evidente un discorso ideologico nel senso che ciascun fotografo poi alla fine porta il suo modo di interpretare e di vedere la realtà e porgerla iconicamente o non iconicamente che sia all'attenzione in maniera tale che sia percepito come un messaggio politico in definitiva in particolare mi riferisco a una posizione di Pellegrin con la fotografia del braccio alzato eccetera Pellegrin lo dichiara in effetti che è un messaggio politico che da gli ultimi Soderbergh eccetera non fanno altro che fare un messaggio politico perché ricostruire e in qualche modo distruggere il concetto di Icona significa attenzione ti do il messaggio che tu devi riflettere su queste cose la fotografia dell'essere di quel personale la installazione diciamo sommersi dalle immagini non è altro che un messaggio politico ma tutta la fotografia di cui abbiamo parlato è assolutamente schierata politicamente e dalla parte delle vittime sempre a parte il caso ovviamente di Jürgen Strop del Gerarca eccetera a parte dei casi o dei militari dell'aviazione davanti al Little Boy il fotogiornalismo è schierato cioè Capa è andato a fare è andato in Spagna con Garda Taro e la storia è arcinota ma c'è sempre stata una grande volontà di essere dalla parte delle vittime e di testimoniare quindi la relazione che lei a un certo punto ha detto la fotografia il fotogiornalismo sta alla guerra come la guerra sta al fotogiornalismo nel senso che c'è una sorta di fascino reciproco diciamo eccetera in effetti è un qualche cosa che viene smentito poi dalla cioè non è andato perché c'era la situazione di guerra cioè è andato perché voleva rappresentare un certo tipo di guerra una certa situazione una certa cosa questo voglio dire è un discorso molto complesso infatti l'ho detto in premessa c'è un occhio testimone che è quello della fotografia ma c'è anche una presa di posizione politica ideologica emotiva intellettuale certo che c'è quel lavoro poi potremmo un giorno fare un incontro bisognerà studiare molto sulla fotografia su tutta la fotografia ma c'è chi l'ha fatto e prodotta dalla parte dei carnefici cioè come appunto i casi ci sono anche degli esempi abbastanza straordinari però insomma certo è una fotografia il fotogiornalismo è una fotografia schierata ma è una fotografia che vuole il fotogiornalismo nasce come una fotografia di denuncia già nella nella volontà dell'informazione è insito un'idea di denuncia altre domande? beh vi sono molto grata siete stati attenti e buoni siete clementi grazie a tutti dell'attenzione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti